Questa azienda nasce nel 1975 con Paolo Panerai che è un editore di finanza molto importante sia in Italia ma anche in Europa e anche in America e adesso anche in Asia. Questa azienda che è nata con la fusione di quattro differenti piccole aziende originarie, una delle quali aveva il nome appunto Castellare e per questo questa azienda oggi si chiama Castellare di Castellina. Abbiamo cercato di impostare la produzione dividendo appunto i vari vigneti e questo ci permette di avere una migliore espressione del territorio, una migliore espressione di questa specifica zona dell'azienda piuttosto che di un'altra perché questa zona risente in maniera molto molto profonda delle variazioni pedoclimatiche anche in zone abbastanza vicine. La ricerca della barricchia ideale per questi nostri vini riveste un'importanza fondamentale e ovviamente ogni tipo di vino sosta in barricchia un tempo più o meno lungo a seconda appunto dell'idea finale che abbiamo di questo vino però quello che è sempre importante è che il legno secondo la mia filosofia non deve mai essere invasivo nei confronti del vino. Una grande eleganza con una grande freschezza con la capacità di invecchiare per tantissimi anni e con la capacità di dare una grandissima emozione. Grandissima espressione a livello aromatico con una variante di profumi che va dalla viola al rosmarino, una leggerissima spezzatura, un leggerissimo filo di menta. Queste sono proprio tutte piante che troviamo camminando in questo territorio, in queste zone laddove appunto si riesce grazie al terreno, grazie al microclima a rendergli l'ambiente più adatto per esprimersi appunto e per dare la migliore qualità possibile.